Chi è di Arco lo sa. La viabilità è un nodo critico sul quale da anni si spendono energie e dibattiti volti a trovare la soluzione migliore. Recentemente la giunta di Arco ha formulato una nuova idea che prevede una zona ZTL su Via della Cinta, che rimarrebbe aperta però agli abitanti di Arco. Due giovani ragazzi arcensi sembra che abbiano trovato una soluzione più semplice e più efficace, tanto da ottenere apprezzamenti da parte del sindaco Betta e del suo vice Bresciani. Il progetto Gala Scretti consiste infatti nel disincentivare la circolazione nel centro cittadino, ma senza impedimenti. L'arteria di Via della Cinta rimarrebbe aperta, chiudendo però al traffico Via Garberie, Via Marconi, Via Le Roma, Via delle Monache e Via Galas. Queste verrebbero infatti annesse al centro storico e quindi pedonalizzate. Il cambiamento principale prevederebbe, per coloro che provengono da nord, l'obbligo di passare per Via del Pomerio, con svolta a sinistra in Via Mantova o diritto in Via 24 Maggio. Nel progetto sarebbero inoltre stati individuati alcuni spazi dove collocare i parcheggi. Il vantaggio, mostrano Matteo Galas e Valentino Cretti, è che questa soluzione può essere realizzata con il minimo sforzo strutturale, quindi con applicazione quasi immediata. È difficile però che la Giunta faccia marcia indietro riguardo alle decisioni già prese, a meno che non fallisca l'esperimento già progettato dalla Giunta per il blocco provvisorio di Via della Cinta. Come è nata l'idea di questo progetto? Allora, l'idea di questo progetto è nata quest'estate, perché non siamo contenti di come l'amministrazione comunale ha voluto adattare Arco alla viabilità e come ha intenzione di adattarla. Quindi, anziché dire sempre questo no non va bene, no non va bene, noi diciamo no non va bene, però diamo anche un'alternativa. Non può essere magari la soluzione perfetta, non potrà contentare mai tutti come qualsiasi soluzione, però noi ci proviamo, diamo la nostra idea e proviamo insomma a discuterne, possiamo metterla a tavolino, possiamo dare insomma delle spiegazioni di perché abbiamo fatto queste scelte. E il vostro progetto com'è strutturato? Allora, l'idea di base è quello di rendere determinate vie del centro esclusivamente zona pedonale. Per fare questo abbiamo pensato di mantenere a doppio senso Via della Cinta, e ad oggi in questione per questa futura ZTL. E ripristinare il collegamento con il parcheggio farroboario e quindi praticamente le macchine entreranno al parcheggio da Via della Cinta, ripristinando il vecchio collegamento. E le macchine poi usciranno esclusivamente da Via San Pietro, diventando così Via San Pietro a San Zunico. In zona dell'Exoratorio ci sarà una mini rotonda e il traffico continuerà per Via Pomerio. Questo verrà fino all'entrata del campo dell'arco calcio e per poi arrivare all'ingresso dell'Orvea. Lì vi sarà una nuova rotonda, già determinata dalla giunta, che si farà. Poi avevamo pensato di continuare il transito in Via 24 Maggio, quindi ripristinando il doppio senso che c'era già anni fa, e arrivando quindi all'incrocio con Via Roma. A Via Roma verrà ripristinato anche il doppio senso che si collega a Via Baden-Powell, per poi l'imbocco a Via Santa Caterina. Verrà ripristinato anche il collegamento alla cosiddetta Curva Marinoni, per poi arrivare sempre a doppio senso via Cesare Battisti, che è praticamente davanti a Via Elena, dove si vuole fare adesso il nuovo auditorium.